Allora, l'apertura dei goalplay è una cosa che ancora devo realizzare in realtà, perché la seconda settimana è un po' indescrivibile. Un mix di emozioni, comunque la mia prima volta a San Siro, proprio per la prima volta fisicamente, e poterci cantare è stata una cosa veramente assurda. E poi ho conosciuto anche Chris Martin, lui è stato super carino, insomma è stata proprio una bella settimana che mi ha dato tanto, da cui ho ricevuto tanto e mi ha caricato tantissimo per queste nuove esperienze, poi, future. Allora, Tusk è un brano che ha questa chiave elettronica, è un genere che sono sempre stata molto appassionata, perché mio cibo ha trasmesso questa passione per la musica elettronica, e alla quale sto approcciando adesso anche con la scrittura, quindi appunto Tusk è un po' l'inizio di questo progetto, ci saranno anche nuovi brani che hanno queste sfumature molto più elettroniche, molto più club, e è un momento in cui mi voglio un po' divertire anche, fare cose che non ho mai fatto, quindi io, cioè, cerco sempre anche di spaziare, di trovare nuove cose, quindi questo è quel momento là. Allora, il turistivo, sì, è già iniziato, è partito, e adesso stiamo facendo illetate, domani sarò a Cagliari, insomma, gireremo l'Italia, veramente, lungo e largo, e sarò anche in città in cui non sono mai stata, quindi è bello perché tanti ragazzi mi scrivono che finalmente mi vedranno live, quindi aspetto tutti perché è veramente bello condividere. Un saluto ai lettori di tv, sorrisi e canzoni, un bacio!